Parliamo di questa partita, fino adesso la più importante dell'anno, Mila-Barcellona finita l'altro giorno, bella partita, 3-2 per i catalaci La cosa che mi ha fatto, è lezione di calcio, però quello che ho letto dice che il Mila ha perso, però adesso ha acquisito più fiducia in se stessa in che senso? Perché ha giocato bene Secondo me, sì, probabilmente è quello che pensano però a livello europeo il Milano ancora deve crescere Secondo te quindi il favorito dei campioni sempre è Barcellona-Manchester? No, no, il Barcellona, no, quale è Manchester? Il Manchester sta a pezzi Sta a pezzi, perso con il Napoli, no? Barcolla, no, quello era il Manchester City Ah già, quindi è il Manchester United, scusa? Ah, pareggiato in casa Quindi il Manchester United non è più quello di una volta, Barcellona invece sta al top Migliore squadra al mondo probabilmente Sicuramente, perché è la più continua, sono un paio di anni Bello il gol, se ne parla molto su YouTube del gol di Boateng Capolavoro, non lo so se lo voleva fare, però l'ha fatto Beh, che ha fatto? Un colpo di tacco e tiro al volo a effetto, un bel gol Però quello della Roma, l'altra volta in rovesciata forse è anche più bello Non è che vale due, vale sempre il risultato finale